Henry Miller, Sexus Il mondo avrebbe cominciato a ottenere qualcosa di valido da me soltanto nel momento in cui avessi smesso di essere un membro serio della società e fossi diventato me stesso Lo Stato, la Nazione, le Nazioni Unite del mondo altro non erano che un grande aggregato di individui i quali ripetevano gli errori dei loro padri Venivano afferrati dalla ruota sin dalla nascita e continuavano a girare con essa fino alla morte e questa macina tentavano di nobilitarla chiamando la vita Se si chiedeva a chiunque di spiegare o definire la vita di dire quale fosse lo scopo del principio e della fine di tutto si otteneva per tutta risposta uno sguardo inespressivo La vita era qualcosa di cui parlavano i filosofi in libri che nessuno leggeva quelli che si trovavano nel vortice della vita i vecchi ronzini imbrigliati non avevano tempo per interrogativi così oziosi Bisogna pur mangiare, no? Questo quesito, che sarebbe dovuto essere un rimedio temporaneo e al quale era già stata data risposta se non con una negazione assoluta perlomeno con una negazione relativa e preoccupante da coloro che sapevano era il bandolo di tutti gli altri interrogativi che seguivano in una vera e propria successione euclidea Dal poco, che avevo letto, mi era stato possibile rilevare come gli uomini i quali erano più nella vita i quali stavano modellando la vita ed erano la vita stessa mangiassero poco, dormissero poco, possedessero poco o niente non si facevano illusioni sul dovere o sulla perpetuazione della specie o sulla conservazione dello stato si interessavano alla verità e soltanto alla verità riconoscevano un solo tipo di attività la creazione nessuno poteva esigere i loro servigi perché di loro iniziativa si erano impegnati a dare tutto davano gratuitamente perché questo è il solo modo di dare ecco il modo di vivere che mi attraeva aveva un senso era la vita non il simulacro adorato da coloro che mi circondavano